Salve, sono Gabriel Osta. In questo gioco di Sly 2 voglio farvi questa domanda. Vi ricordate l'altra volta quando vi ho spiegato tutti i potenziamenti di Sly Hooper? Ora se mi seguite bene con attenzione vi spiegherò i potenziamenti di Bentley che avete acquistato sull'Adronet. Bomba radiocomandata. Bomba da lancio con innesco a distanza. Si può mirare, lanciare e attivare. Poi c'è la bomba soporifera. Addormenta tutti i nemici nei dintorni. Poi abbiamo Succhia Energia. Cattura le guardie e gli risucchia l'energia. Questo è vero. Poi c'è la bomba riducente. Farete rimpicciolire i vostri nemici nella zona. Anche questo è vero. Blocco temporale che immobilizza le guardie almeno temporaneamente. Poi abbiamo il destabilizzatore dimensionale. Rimpicciolisci le guardie colpendole con la tua palestra. Poi abbiamo il levitatore. Prolunga i tuoi salti permettendoti di restare sospeso in aria. Poi c'è la scarica di adrenalina. Correre come nessuna tartaruga è mai riuscita a fare. E questo è il lancio lungo che vi permette di lanciare gli oggetti più lontano. E l'uso è automatico. Ed è uguale a Sly U per il lancio lungo. Ok, vi saluto. Iscrivetevi al canale. Commentate e mettete un mi piace. Speriamo vi siano piaciuti questi potenziamenti di Bentley del Joe Sly 2. Ora alla prossima video recensione vi spiegherò gli ultimi. Quelli di Murray. Grazie a tutti.